Bianco gioca questa, che invece al professionista non piace, perché dice che è una mossa un po' ambigua, nel senso che il professionista dice che bisogna andare fino a... se il nero viene qui torna indietro, e poi dopo comunque rimane sempre aperto l'angolo per un'invasione, questa da usare per fare un moglio qui insieme a queste, cose di questo genere, invece qua è una mossa che non fa abbastanza. Riesci se dovrà giocarla eventualmente più qui, se vuole a far territorio? Eh, allora sì, perché comunque non rafforza abbastanza il lato, tant'è che il nero viene subito a giocare qua, che la mossa alta così dice va bene quando questo lato non è forte. anche. A bianco piacerebbe giocare qui, la dimostrazione no, però questa sarebbe normale, però il problema è che questa non è impiazzata bene, perché se giocasse in bianco una sequenza consuetta è questa. Bianco ha due gruppi di effetti? Adesso dovrebbe tornare indietro, ma se lo fa... Nero viene qui e può tagliare e questa lo aiuta nel combattimento. Perché doveva proprio stare qui? Fosse, esatto. Fosse una più indietro, invece non ci sarebbe stato il problema, perché non c'è la risposta. Grazie. E quindi la risposta dei Fossechi come avessi detto? E come la giocherebbe quella risposta? Come la giocherei io? Vabbè, chiaramente io non avrei mai fatto questione, no? No, però... Sì, di solito faccio delle stupidate anche peggiori. Allora, qui ci sono due cose, di solito. Un errore troppo picco. È un errore troppo picco. O qui. Buona. Questa è più normale, ma soprattutto è la prima cosa che viene in mente proprio perché c'è questa. Al che però ci si dice... Certo, per completare la forma ci vorrebbe una pietra qua. Ma riuscirò mai a giocarla? Perché quella mi sembra una mossa vuote. Sembra assente. Tra l'altro flussi dopo potrebbe rispondere a invadere il suo. Scusa. Per cui ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va. Forse questa l'avrei voluta lì. Sì, esatto. Ah, perché quella... A me viene meglio anche questa. Sì, forse è persino troppo bassa. Cioè, a questo punto se vieni qui puoi magari pensare di venire più in là e di dividere la metà. Così, perché viene questa. Questa toglie solo un po' di punti. È una riduzione, no? In realtà. Quelli sotto in seconda linea sono riduzioni. Così, dici, i tali. Vivo qui una più grossa. Questa è l'unione di questi tipi. Questa invece va qua e toglie questi a bianco. Questa è più grossa, secondo me. E questa è separata. Quindi infatti avrei risposto a Giusecchi con questa. Sì, può rarsi. Con quella mi sa che non c'è una grossa fetta dell'angolo. Sì, però vabbè, esatto. E ho questa, ho questa, ho questa. Non so. In ogni caso almeno fai un po' di influenza qua. E però sacrifica quella. Poi c'è l'angolo e poi cominci ad avere il problema che c'è il gruppo di qua e di là. Però qui puoi entrare facilmente sfruttando questa apertura. Quest'angolo comunque abbiamo detto che è un pericolo. No, non più adesso. Mai a posto. Mai a posto. Sì, tutto questo. Eh sì. Non c'è più latare su quella pietra. E qua significa che nero ha tre angoli e bianca non ha un moio. C'è due gruppi un po' grossi. Nero, bianco, nero. Bianca non fa adesso. Perché normalmente si gioca qui, per esempio. Però nero viene indietro e... Se no, è il partito o no. Questa è la partita? Questa è la partita. Quella è buona? Allora, perché noi c'è la... L'idea su e la taglio fuori. Sì, però c'è questo problema. Spigliarlo. Eh. Il gruppo è posto un attimo sul problema. Per cui è troppo facile da leggere. Bianca, gioca su. E nero non viene. Nero con tre cartagli. Sì. Dice, facciamoci. Ma... Eh, mica tanto. Mamma. Sì, lo so. Bisogna essersi letto tutta la sequenza. Perché se mi muoiono tutte queste pietre gli sto dando tantissimi punti. No. Però quante libertà hanno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quante hanno queste? 1, 2, 3, 4, 5. E adesso il nero può tagliare e questa pietra bianca che era piazzata male si vede che è un po' troppo più là. Se invece ci fosse stata questa forma, sarebbe stato un po' meglio. Questa comunque si raccavano, ci aiutano, cioè rispetto a questa. E quantomeno vanno a roppere le scatole nel moio di nero. Invece adesso questa pietra bianca. Però nessuna pietra. Queste non le vorrò di giurtare. Non sono. Ok. E quindi adesso tocca al bianco. Quella zona lì sta ingrandendosi. Allora, adesso c'è una mossa che non vi chiedo, perché è abbastanza inverossimile vederla. Il professionista dice questa mossa sembra strana, però è sicuramente la migliore. E sono stato molto impressionato dal fatto che Irata l'abbia vista, perché in partita è veramente difficile da vedere. Cioè una cosa da analisi. Per togliere l'occhio. Irata è giapponese. L'84enne. Posso dire dove giocherei? Sì. Adesso non è perché ho visto, però... Però se l'hai visto... No, no, non è perché sembrava che mi fassi nipro. Io giocherei qua. Ah, ok. E invece no. Io giocherei una sola. Qua. E invece no? No, è veramente difficile. Dovete pensare di essere dei 30Q, allora ce la farete. Il 30Q? Va, la cattura. No. Beh, ok. Non questo tipo di 30Q. Questo tipo di 30Q. Cosa? Questa è la migliore. Vabbè, se lo vedi se lo utilizziamo. Perché? Perché blocca bene tutte queste. Chiude il confine qui. Forse vuol dire che questa era troppo larga. Però, di fatto è... Nella situazione è la mossa migliore. È un difficile tesuge. Ah, ok. Questa era davvero impossibile. Eh, ok. Mi sta fatto bene a non chiederci, perché non ci siamo mai arrivati. Vabbè, comunque il bianco deve completare l'accerchiamento. E dice, a questo punto la partita è diventata un pochino migliore per nero. Per nero? Sì. Sì. Tutta questa. Questi. Sì. Bianco ha tutto questo. Qui dentro anche le pietre nere. Sì. Però... Nero se posso questo. Dai. Non direi dovevo... Ma qui la nostra pelle a rollo ha pagato carissimo. Sì. Esatto. Mi aspettavo quando queste pietre nere sono molte. Sì, abbastanza. Eh, ci sono questi tagli. Le bianche hanno poche libertà. Però se ne accavano. Però nero comunque strutta il fatto che bianco si ha difficoltà con la libertà. Per continuare a pressarlo. Esatto. 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 Esatto.